Hola Todes, eccoci qua, Time's Up, ritorna dopo qualche tempo, ho avuto un po' di problemi tecnici, vi chiedo scusa per questo. Torniamo un attimo al sacro fuoco del rugby, 6 nazioni, penultima giornata, ieri ci sono state due partite, oggi ce ne sarà un'altra molto bella, Scozia-Irlanda, che vi consiglio, molto interessante. Secondo me la Scozia è comunque favorita non solo perché gioca a Marrefield, ma perché secondo me ha fatto vedere le cose più interessanti rispetto all'Irlanda, però questa è altra storia. Parliamo di Italia-Galles e Inghilterra-Francia, sull'Italia non c'è molto da dire in realtà. Il problema base, finora è emerso, è che la squadra voleva fare le sue cose ma non riusciva, un po' perché fisicamente aveva uno scarto enorme rispetto alle altre squadre, un po' anche per dei limiti tecnici. Ieri è mancata anche la testa, un giallo a Bigi dopo un quarto d'ora è sostanzialmente esemplare di una squadra che è scollegata, è entrata in campo molto sfiduciata e con pochissimi stimoli. Ciò non vuol dire che non ha voglia, questa è una cosa che secondo me va tolta. Va tolta perché non è giusto, perché veramente denigra il lavoro di un allenatore, di uno staff tecnico, di un gruppo. Poi possono essere inadeguati quel che volete, ma la squadra dà il massimo, sono dei professionisti, si impegnano. Non è vero che non hanno voglia che con la cazzimma si risolve tutto, non è questo. L'Italia ha bisogno di ben altro. E non è che lo trovi con il coach che fa il miracolo. Il problema è sistemico, il problema è strutturale e questo si riflette con l'altra notizia del rugby italiano di ieri. Cioè la vittoria nelle elezioni federali di Marzino Centi. Marzino Centi è stato negli ultimi anni il grande oppositore della gestione ora precedente della federazione, cioè quella di Alfredo Gavazzi. E adesso Marzino Centi prende la carica più importante in un periodo delicato, in un periodo di crisi e di soldati del rugby italiano, in un periodo economicamente importantissimo, perché poi nei giorni scorsi c'è stato anche l'accordo tra il board di 6 nazioni e CVC, che porterà grandi soldi, porterà intrati importantissimi ai club, alle federazioni, e questi club dovranno investirli. Quindi ci si presenta potenzialmente una grande occasione. In campagna naturale si sono dette tante cose, non entro, anzi, entro solo su un punto. Si è parlato ancora una volta pochissimo di femminile. E noi, al netto della crescita degli anni scorsi, abbiamo bisogno di un progetto serio sul terreno del rugby femminile. Questo è in dubbio. Chi lo nega, secondo me, nega un certo tipo di rapporto con la realtà. Ho sentito molte chiarche, molte cose. Parlerà il campo, parlerà anche una scelta di professionismo nei confronti delle giocatrici, perché a questo punto diventa necessario. Però la federazione non può tutto. La federazione fa una parte del lavoro. I club devono fare gli altri, finché non si capisce che il sistema funziona. Quando tutto funziona, allora il rugby italiano di sconfitta ne farà anche 40, 50, 60. Si potrà andare avanti per anni e anni e anni. Se invece si capisce, e lo devono capire secondo me prima di tutto i club, più che la federazione, perché il club deve anche lavorare in una certa maniera, non può aspettarsi da manna al cielo. Non è questa che funziona. E allo stesso tempo la federazione non può aspettarsi che i club facciano miracoli quando mancano gli strumenti. Quindi servirà un percorso lungo. Io la chiamo da molto tempo traversata nel deserto. Il rugby italiano deve fare una traversata nel deserto. E fare questa traversata nel deserto ci permetterà di avere determinate cose, determinati risultati, determinati obiettivi, e veramente riportarlo a un certo livello e anche oltre. Almeno questo è l'auspicio. Poi c'è stata Inghilterra-Francia. Inghilterra-Francia ci ha riconciliato col gioco. Dopo lo spettacolo purtroppo deprimente dell'Italia e di un Galles che ha vinto in pochissimo e che ha gestito la partita. Poi si è trovata delle situazioni nel secondo tempo comode. E lì è sempre un atteggiamento mentale. Inghilterra-Francia per tanti momenti del gioco non è sembrata una partita europea. A me ha ricordato dei play-off di Super Rugby. Quindi voglia di giocare continuamente, uso particolarissimo nel gioco al piede. La Francia ha messo in luce il grandissimo lavoro di Sean Edwards. Una squadra con delle strutture difensive incredibili. E ogni volta che l'Inghilterra riusciva a trovare un buco nel grande sistema difensivo francese poi la Francia ricostruiva subito e subito riusciva a rendersi di nuovo efficace. Questa è una cosa meravigliosa che si è vista durante l'incontro. L'Inghilterra ha avuto alcuni giocatori che hanno giocato delle ottime partite. Si è premiato Mwatson, ma per esempio Daly ha fatto un grande secondo tempo. A me è piaciuto tantissimo Johnny May, che ha fatto delle ottime cose. Farrell ha fatto anche un uso secondo me. Anche palle in mano, queste cose interessanti di Farrell. Poi nel secondo tempo sono saliti in cattedra altri giocatori. Itoje, il secondo tempo di Itoje è stato suntuoso. E la meta lo premia, premia la sua determinazione, la voglia anche di entrare nell'ingranaggio francese e provare a romperlo. I palloni ostacolati a Dupont nel calcio del boxe sono il simbolo di quel tipo di volontà che l'Inghilterra ha messo in campo negli ultimi 20 minuti. E per quello ha vinto con merito. La Francia è più forte? Sì. La Francia può arrivare in fondo al Mondiale tra due anni? Sì. Ma non è ancora pronta. Le manca ancora un pezzo. E probabilmente Fabien Galtier lo sa. E lo sanno anche i giocatori. E quindi quello che stiamo vedendo non è ancora il top che la Francia può dimostrare. Ci aspetterà un grande Mondiale della selezione francese, non solo perché giocano in casa, ma perché sono forti e giocano un grande rugby con grandi strutture. Dicevo prima, super rugby, imprevedibilità, velocità, voglia di attaccare gli intervalli, anche da tanti contraattacchi, veramente una patria incredibile. Poi è normale, quel ritmo non dura 80 minuti, anche perché non sono di cyborg, per fortuna. E quindi si sono viste situazioni più tattiche, più un uso più classico del gioco al piede. E poi anche delle situazioni importanti dal punto di vista della mischia chiusa. Si è parlato tanto delle decisioni dell'arbitro, ma a me non interessa. E quindi veramente è una partita che per chi vuole capire di più e per chi ama anche gli aspetti tattici del gioco, ha offerto grandissime emozioni. Io vi consiglio di recuperarla perché veramente è stato un incontro che ti riconcilia con questo meraviglioso gioco che è il rugby. Ed eventualmente nelle prossime settimane magari farò un paio di pilloline. Vediamo se sarà possibile. Comunque intanto sono tornato, io sono contento e prepariamo tante altre cose. Time's Up torna presto, probabilmente già settimana prossima.